un cordiale saluto a tutti amici da stefano ghetti benvenuti su emilia meteo punto tv il quadro meteorologico sta andando peggiorando per effetto di una nuova perturbazione che sarà accompagnata anche da aria più fredda insomma torniamo a fare un passettino indietro rispetto al weekend che era tornato di stampo primaverile adesso tornano le nubi un po di pioggia tornerà un po di neve anche sull'appennino e poi il quadro meteorologico comunque sarà già di nuovo destinato a migliorare e nel corso già della giornata di martedì e poi dopo dovrebbe tornare abbastanza tranquillo dunque ombrella portata di mano lunedì mentre invece martedì il tempo andrà lentamente migliorando attenzione alla neve che tra lunedì notte e martedì mattina presto potrebbe cadere fino anche a quote relativamente basse sul nostro appennino le temperature infatti sono previste in generale diminuzione ulteriori dettagli come sempre sul nostro sito web all'indirizzo emigliameteo.tv da qualche giorno attivo anche il mio personale blog stefanoghetti.it per adesso è tutto grazie per essere stati con noi a più tardi